Cateno un grande entusiasmo, un civismo che sta davvero conquistando l'Italia sul che a mano si sta diventando una realtà pulsante, oggi l'assemblea costituente. La dimostrazione è che il Nord sta rispondendo e quindi un'iniziativa che parte con un'esperienza a organizzare in Sicilia ma che diventa un modello di valorizzazione delle esperienze civiche come la Dua perché l'aggancio che noi speravamo si sta concretizzando, richiama, il Nord risponde e le entità territoriali, un comune denominatore di entità territoriale. Tu hai detto giustamente, ognuno padrone in casa sua ma federano, uniti. Ovvio, così, quelli che sono gli appuntamenti dove è importante stare assieme perché diversamente faciliteremo il lavoro sempre dei nostri avversari perché se noi alle politiche, agli europei non riusciamo in modo concluto ad esprimere un progetto che ci rappresenta, la gente ovviamente andrà a votare i nostri avversari e questo ovviamente diventa per noi un vero progetto. Un impegno, quando ti avremo a Taranto, un impegno solemne, mi pare che mangio da te. Sì, tu e tutto lo Stato. Allora, dopo le elezioni di Taormina, se la Unione si verrà, vorranno, spero di sì, però come sindaco di Taormina. Promesso.